Il campionato è prossimo alla ripartenza, smaltito alle feste, lavoro, come avete lavorato in questo periodo? Abbiamo fatto i giusti giorni di feste, come tutti quanti, abbiamo ricominciato il primo dell'anno, la squadra è concentrata per l'obiettivo che si è prefisso, vogliamo cercare di ripartire bene, abbiamo lavorato bene, poi adesso domenica ci aspetta una partita molto importante, cercheremo di vincerla in tutte le maniere, però sappiamo che di fronte c'è una squadra organizzata, una squadra che ci può mettere in difficoltà. Avete chiuso il giugno d'andata con una bella vittoria 5-2 a Milazzo, quanto è inciso a livello morale chiudere con una bella vittoria con quella di Siciliano? Ma è importante finire bene, quella partita lì avevamo tutta da perdere e nulla da guadagnare, per cui fare tre punti in quella partita ha significato fare quello che tutti ci aspettavano. Adesso comincia un altro percorso, abbiamo recuperato un po' di punti rispetto alle squadre sopra, dobbiamo continuare così, cercare di rosicchiare sempre un punticino alla volta e vedere di raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quello di far meglio possibile. Infatti domenica è di partenza, arriva subito Sartan Cangelo, una squadra che non è sicuramente delle qualità come propate a Savona, ma comunque è squadra tosta. Come sarà la partita di domenica? È una squadra che gioca un buon calcio, è una squadra che lo scorso anno ha sfidato i play-off, sono rimasti gli stessi, in più Anastasia ha cominciato a fare gol, hanno qualità, cercano di giocare sempre palla, per cui è una squadra che ci può mettere in difficoltà. Pensiamo di averla preparata bene, adesso vediamo come riusciamo a metterla in campo, sicuramente siamo attenti e concentrati per cercare di poter fare nostra la partita. Però dipende sempre anche dagli avversari e di quello che riusciremo a fare noi se saremo bravi. Un occhio anche al calciomercato, il mese di gennaio si apre questa finestra, a che punto siamo con i giocatori in esubero? Ma in esubero ci sono i giocatori che hanno poche possibilità di giocare, quelli che giocano sono giocatori importanti per noi, per cui se ci sarà la possibilità di poter dare via qualche ragazzo che in questo momento è chiuso per il modulo di gioco, perché nel proprio ruolo ce ne sono troppi giocatori, ben venga. Uno come Ferretti roterei sempre, però onestamente è un po' chiuso e meriterebbe di giocare con noi e con qualsiasi altra squadra. Per cui se c'è la possibilità per lui di andare da qualche altra parte, bene, se no rimarrà qui e ci farà molto comodo a quella fine. Un'ultima cosa, una domanda più da tifoso che da dito ai lavori. Ieri a Bustosiccio è successa una cosa poco piacevole, la Propatia è una squadra che fa parte del vostro girone, come giudica quello che è successo tra Propatia e Milano durante la Michele? Ma io non parlerei di Propatia, non parlerei di tifosi della Propatia perché loro non c'entrano nulla, sono vittime come tutti quelli che amano questo sport e hanno una certa cultura. Io credo che ci siano stati quattro deficienti, cinque deficienti che non fanno parte del calcio, che sfruttano soltanto il calcio per poter mettersi in mostra e per poter portare le proprie idee, che non hanno cultura nella nostra mentalità. Per cui non parlerei di Propatia, non parlerei di tifosi di Propatia, che sono gente appassionata, gente calorosa, e che questa storia l'ha un po' penalizzata anche loro. Filippo Stevanini, tu sei la nota più piacevole di questo anno 2012, 18 anni, 12 presenze in campionato, due gol nazionali a contatto professionistico, chi più ne ha più ne metta. Sì, è stata una buona partenza, insomma, tante belle soddisfazioni personali. Adesso è difficile continuare, sia dal punto di vista personale, che raggiungere i risultati che ci siamo prefissati come squadra, insomma, e raggiungere l'obiettivo finale che abbiamo, quello insomma di salire di categoria. Qual è il ricordo più bello che hai tu del tuo 2012? Visto che hai tante soddisfazioni a portata di mano. Beh, diciamo che il primo gol che ho fatto al mercante è stato, penso, il momento più bello, quello che insomma sognavo, voglio dire. Siamo alla ripresa del campionato, domenica arriva il Sartancangelo, un Bassano che deve vincere per riuscire a raggiungere o avvicinarsi alla vetta, quindi sarà una gara molto dura. Sì, già è un avversario mostico perché, se adesso non ricordo bene come ha messo in classifica, però c'è giocatori importanti e, insomma, abbiamo visto che tutte le partite non sono facili. Come mi diceva prima il mister, che dobbiamo affrontarle tutte nella stessa maniera, sempre sul pezzo, perché non è mai facile, non dobbiamo mai sentirci più forti, ma dobbiamo sempre mantenere i piedi per terra e cercare di fare quello che dobbiamo fare. Questa pausa invernale invece è servita più a livello fisico, a livello morale, magari per ricaricare un po' le batterie e ripartire. Qual è la condizione che avete trovato in questa pausa invernale? Beh, abbiamo continuato a lavorare, perché, insomma, si spausa, però si gioca subito, quindi, voglio dire, abbiamo cercato di mantenere alta la mentalità, insomma, e quindi abbiamo continuato ad allenarci per arrivare pronti, insomma, a domenica. Un'ultima cosa, quella della squadra che vedi più indicata, oltre a Bassano ovviamente, alla promozione, al salto di categoria? Beh, sicuramente, beh, la Propatria è una grande squadra, visto anche l'anno scorso, che aveva già vinto, mi pare, senza la penalizzazione. oltre alla Propatria, ma non ne ho viste, insomma, che della Propatria, soprattutto.